Che profumo! Mi piace la ricotta a porte! Ciao a tutti! Papà, non è che mi potresti prestare 200 euro? Nuova colpa del poker? No, del full. Non mi è entrato! Mimmo, ma ti sembra questo il momento? Sono pazzo della tua mani Di questi qua, con la tournée stiva che vi ho organizzato, me ne faccio vedere a decine di questi qua. Sì, dai, prendimi adesso. Eccolo là! Il furgone è andato. Dobbiamo trovare un altro mezzo per la tournée. Io ti ammazzo, disgraziato. Luca, calmati! E che cos'è questo? Oh, ragazzi, questo ho trovato. È bellissimo. Questo fa al massimo 50 all'ora. Eh, vabbè, faccio il primo a la piedi, però scusami! Ma come gruppo d'accompagnamento? Ma c'è sta Shakira? Shakira è la babysitter di mio figlio. Oltre a essere la babysitter di mio figlio, che cosa esce? Chi deve una cavallata? No, 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 no! Siete musicisti? Sì, sì, suoniamo, sì. E così possiamo fare la marcia della battaglia. Quale battaglia? Comincia la battaglia! Sei fisti, si stì! Non va bene, signora! Ma prego! Come chezza vi siete congiati? Padre, dov'è il bagno? Mi fa andare a scala. Niente carta igienica, padre! Qua non usiamo la carta igienica. E come vi pulite? Con le mani! Ma spaccato la marmellata, è buonissima! Ma fate voi, artigianale! E con le nostre mani! Mi sono piaciuti i ragazzi! Bello! Five Night at Freddy's sembra pronto a fare il grande salto. La Warner Brothers, infatti, ha recentemente comprato i diritti della serie horror di Scott Coughton per produrne dei film. Il produttore della pellicola sarà Roy Lee di Vertigo Entertainment insieme a Seth Graham Smith e David Katzenberg della Katzmeet Productions. La produzione lavorerà a gomito a gomito con Scott Coughton e la storia proporrà la medesima e tetra ambientazione del gioco. Al momento il film è ancora in fase di scrittura. Voi siete fan di questa serie horror? Vi piace l'idea di un film? A me è intriga, devo dire. Vi ricordo che è disponibile la nostra app da scaricare sia per iPhone che per Android e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!